Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della mia Current Household Come state ragazzi? È iniziato un nuovo anno e sono prontissima per portarvi questo nuovo aggiornamento Allora, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con la mia Joy che era venuta a pattinare qui con il suo amico Paul Murphy e ovviamente sua madre Vi ricordo che ha appena perso suo padre, sono appena tornati dal suo funerale E quindi cominciamo una nuova pagina di questo libro È un nuovo giorno e sta per terminare l'inverno e infatti la nostra Alice comincia a preparare le ultime bottiglie con i frutti appunto invernali di Nettere Ovviamente si incanta sempre tantissimo Joy a guardarla e i cani sono sempre con loro Tant'è che Joy ormai li ama a strada ora, sono proprio parte integrante della famiglia e li coccole, continuano a coccolarli e tra l'altro impara guardando la madre a produrre il Nettere Chissà se un giorno anche lei non proverà a farlo Viene a farci visita a Brent Brent che è un altro appassionato della musica, soprattutto della musica pop E quindi Alice ne approfitta per farsi una cantata insieme Brent sa che Alice è un po' giù perché per quanto avesse divorziato da Aiden Comunque è una persona che è stata una colonna nella sua vita e quindi soffre molto la sua perdita E quindi è venuto un po' a rallegrarla E ovviamente non poteva mancare una bella cantata al karaoke di Joy con la sua sorella Rose Sono molto unite nonostante la differenza d'età Vi ricordo che io ho un po' bloccato il tempo in questa partita A questa età per la mia adorata Joy In quanto volevo proprio farglielo godere questo tempo Non farlo scorrere troppo velocemente Però lei è di almeno 3-4 anni più grande di Rose Nonché la figlia, sua sorellastra, nonché figlia della famiglia che si era formato Aiden dopo il divorzio E ovviamente essendo la fine dell'anno, la fine dell'anno appunto quindi dobbiamo festeggiare il capodanno Alice ne approfitta con un bel bicchiere di nettare bianco Adoro, il mio preferito E guarda le piccole cantare Poi ovviamente Joy cerca di strapigliare le presenti Mi riferisco ad Alice e alla sua sorellastra Con una musica che ha imparato a suonare al piano Vi ricordo che lei ogni mercoledì ha le lezioni di piano Quindi lei esercita non solo le sue abilità pianoforte ma anche quella canora E ovviamente non può mancare Alice di dare un regalo per la fine dell'anno a Rose Che vede comunque molto triste, povera piccolina E aveva già dato il regalo ovviamente natalizio invece a Joy Festeggiamo, cerchiamo di fare tantissimi festeggiamenti Anche perché dovete sapere che Jade Rose, la mamma di Rose È fuori in città Ha chiesto a Alice Nonostante il disagio ragazzi Una mano per tenerle Rose Quindi sono cercando di farle godere veramente al massimo questo momento Perché appunto ha perso il padre Quindi potete immaginare ragazzi Che questa piccola famigliola È comunque in gravi difficoltà economiche E questo anche se non gli è stato detto Ma Alice lo sa benissimo Quindi ha messo da parte tutti i rancori Tutti, come dire, anche gelosie e invidie Che potrebbero, secondo me naturalmente, esserci Ricordiamoci che il marito la tradiva con la mamma di Rose Quindi con Jade Rose Però davanti alla morte, davanti ad una bambina Certi sentimenti negativi devono venire meno Quindi festeggiamo, inizia il countdown E a zero secondi, quindi alla mezzanotte Ci facciamo praticamente gli auguri Ci abbracciamo Sono bellissime queste due E il giorno dopo ne approfittiamo per fare colazione insieme Però con una torta particolare Una torta refragore Perché sì, se lo operete bene Che è in questo periodo che è nata la mia gioia Anche per questo bloccavo il tempo Perché io voglio che il suo compleanno sia sempre dopo le vacanze natalizie E quindi la mia gioia compie gli anni E diventa una bellissima ragazza Mantiene quella pancetta che, sapete, ha sempre avuto Ma nei bambini è stupenda E comunque un po' di carne fa bene Ragazzi, lasciamo perdere le misure Le forme di afane Come direbbe qualcuno Che ci vengono inculcate Però Joy, così come il padre Ma soprattutto come Alice adora andare a correre E portarsi dietro i cani Che hanno bisogno di sgambettare un bel po' E quindi, poiché è cominciata la primavera E la neve qui sta per sciogliersi Decide di farsi una bella corsetta Con i loro cani Vi ricordo che Joy fa parte degli scout E la sorellastra viene a trovarla La vede e dice Wow, ma bellissima questa divisa Vorrei fare anche io parte degli scout E lì dice Guarda, ti insegnerò io tutto quello che c'è da sapere E ti aiuterò ad entrarci E infatti La porta radunò con sé E anche Rose diventa parte degli scout Lei continua a dormire con noi ancora per qualche notte Ragazzi, in questo periodo Rose fa molto bene Perché, poverina È una situazione davvero molto complicata E questo lo capiscono entrambe Sia Joy che Alice La porta quindi a uno dei raduni principali Il principale è quello di Granite Force Ma anche qui si radunano molto spesso Di scout Perché Joy ha intenzione di insegnarle Tutto ciò che c'è da sapere Prima di tutto Come ad estrarre i cani E soprattutto, in questo caso Stiamo insegnando il riporto E poi, dobbiamo insegnarle Tutto ciò che sappiamo sul giardinaggio E quindi, Joy le dà un po' di lezioni Ci prendiamo un gelato Perché vi ricordo che in questo lotto Che si chiama la serra dei fiori Oh, no bugia La serra fiorita Ho messo la gelateria Con un trucco Perché, purtroppo, la gelateria Non è un... Come dire Una cosa che si può mettere facilmente Prendendola dal debug È un po' complesso Ma si può fare E si prendono un bel gelato Entrambe Si godono questa giornata insieme Tre sorelle Ora vedete la differenza di età E guardate com'è bella La mia Joy che si mette a giocare sotto la pioggia Cioè, non cambia questo Non cambia Proprio vive Sommersa e immersa nella natura È un nuovo giorno Rose è ancora con noi E mentre Alice e Rose Fanno colazione con questi biscotti e le bacche Joy si rende conto Che è un po' fuori forma E vuole piacersi Vuole prendersi cura di sé E decide di mangiare sano Non rinuncia, ragazzi, ai pasti Mangia semplicemente sano Molta frutta e verdura Perché purtroppo le è comparsa un po' di acne Comunque lei Nella sua vita ha vissuto tante lacune Tante perdite E quindi È una ragazza davvero molto forte Che non vuole Perdersi Lasciarsi andare Quindi Anche in questo senso Mostra davvero tanta forza E quindi si mangia questo bel porridge Alla fragola Poi come sapete Lei ama le piante Tant'è che da piccola Non so se ve lo ricordate Ci parlava tantissime Quindi ne approfitta Per parlarci E prendersene cura Sia quelle che sono All'interno della casa Sia quelle che sono in giardino Continuiamo ad andare A fare jogging Questa volta con Mallory Questa è la sua tuta Molto semplice Perché lei è molto semplice Però ce l'ha un suo stile Però non è molto Una ragazza che si conforma Alle mode E guardate poi Questi bel ricciolini Che escono Dal cappello Io li ho voluto lasciare Soprattutto in questa fase Questi ricci lunghissimi E ovviamente Poi comincia a studiare Poiché Rose è ancora con noi Le danno mano a fare i compiti Le studia insieme a Rose Ovviamente ormai Lei è un adolescente Quindi i compiti Sono molto più pesanti E è l'ora di cena Mangiamo questa zuppa di funghi Quindi è un cibo comunque sano E come ogni sera Rose chiama la mamma Jade Rose Per aggiornarla Per far sapere Che è tutto bene Tra l'altro Ha perso un dente Come potete notare E lì se ne approfitta Per fare un po' di Di appunto Per pitturare un po' Che è una delle sue passioni Guardate qui La faccia di Joy Quando guarda Jade Perdonatemi Rose al telefono Va bene Come vi dicevo Era spuntato Qualche brufolo a Joy Quindi decide Di veramente Prendersi cura di sé Si deterge il viso E poi si trucca Con prodotti esclusivi Inclusivamente naturali Lei sapete Che un amante della natura Naturaliste Quindi i prodotti Cosmetici che uso Sono quelli Di 100% Derivazione naturale E' il momento Di scriversi Al liceo Voi dovete Saperlo Arriva quindi Lunedì E conosciamo la preside Ragazzi Eh sì Lei si è iscritta Di un liceo speciale Un liceo di botanica Dove si studia Molta logica Molta biologia E molta botanica Perché lei ha Questa passione E vuole perseguire Questo obiettivo Da grande Vuole diventare Una botanica Quindi una botanista E quindi Studierà tantissimo Per riuscirci Questa è la scuola L'ho un po' modificata Tant'è che la trovate Nella galleria E facciamo nuove amicizie Lei non è mai stata Un'eccessivamente socievole Però sa che il nuovo giorno Deve cercare Di fare conoscenza Qui si fa il selfie Che manda la mamma Mamma sono in classe Siamo per cominciare Un bacio Dopo Il giorno dopo Fanno colazione Con questa macedonia Di frutta Sul portico Guardano un po' La loro bellissima Brindleton Bay E chiacchierano un po' E appunto Joy dice ad Alice Che è molto entusiasta Di questa scuola Ci sono veramente Tante materie Che adora E Alice Ha deciso Sprofittando Che Joy è a scuola Di prendersi un attimo Una pausa Di farsi Bella Quindi di prendersi Un che lì Un po' a cura di sé E comincia a farsi Una pedicure Dalla mamma Di Paul Murphy Quindi andiamo in casa sua Perché lì lavora in casa E una manicure Ci facciamo il massaggio E così via Ne approfittiamo Perché oggi pomeriggio C'è proprio un raduno Dal club Della combricola Appunto Degli amici Di Joy E si guardano Un bel film insieme E questa volta Però Praticamente Joy è l'unica femmina Tanto è che un po' Si stanca Però Hanno visto Quanto meno Un film divertente Perché si sono radunati? Perché oggi Gio compleanno Di Paul Ragazzi Diventa Un ragazzo Molto Molto Bello Infatti Si danno il pugno Pugno Del braccialetto Dell'amicizia Perché questi due Sono migliori amici Ve lo ricordo E poi torniamo a scuola È un nuovo giorno Voi sapete Che a scuola C'è anche l'ora Di educazione fisica Io A Joy Non ho voluto Iscriverla Né nel corso Di football Né tantomeno Ovviamente In quello Di cheerleader Perché Non è Per queste cose Lei Qui tra l'altro Vedete la palestrina Rirredata da me Però Comunque L'educazione fisica C'è Perché questa scuola Ci tiene molto Far capire Che una mente sana Deve stare In un corpo sano E quindi Lei si allera Infatti Ha perso Già molti chili Ci sono le lezioni Che seguiamo Molto attentamente Prendiamo sempre Appunti Finché non arriva La giornata Delle carriere Nella giornata Delle carriere Incontriamo Questa ragazza Che ci parla Biersen Dovrebbe essere Una Biersen Quindi lavora A Brind Scusatemi È di Windenburg E praticamente Lei è una botanista E quindi Si ferma a parlare Con lei Joy E le chiede Quali sono Tutti Tutti i vantaggi E gli svantaggi Della loro Della loro carriera Ne diventa sempre Più appassionata Infatti Le fa un sacco Di domande Si fa un selfie Perché è diventata Molto fiduciosa E poi si va Alla lezione Di piano Praticamente A scuola Ho creato Un club Un club Che si chiama La banda musicale Scolastica Dove Joy suona In piano Gli altri suoi amici Altri strumenti Purtroppo Però Nella scuola Non si possono Rodonare i club Quindi Praticamente Mi accontentavo Dei ragazzi Che già frequentavano La scuola Per venire a suonare Però è stato molto bello Creare questa stanza Della musica Perché è una Della passioni Di Joy Ci siamo uniti Però Al club Degli scacchi Anzi All'attività extracurriculare Delle scacchi Lì è davvero Molto brava E si esercita Con molti suoi amici Tanto è che Raggiunge subito Il livello 3 E quindi Abbiamo avuto Tutti quei premi carini Questa scuola È molto Molto pesante Ragazzi Continuamente Ha progetti scolastici All'inizio Elis le dà una mano Poi la lascia Proseguire da sola Quando Ragazzi Di notte Perdiamo Mallory Che dolore Che dolore Ragazzi La mia Mallory La mia Golden Retriever Quanto l'ho amata Quanto C'è solo Guardare l'immagine E mi viene La lacrimuccia All'occhio Ragazzi Di notte Quindi loro Se ne accorgono Di mattina È stato un trauma Ragazzi Lo vedremo tra poco Però è venerdì E cosa succede Il venerdì A volte è venerdì A volte è sabato Dipende se ci sono Delle festività Andiamo Chestnut Ridge Per l'allenamento Di equitazione Con sole Il cavallo Di Brent E quindi Facciamo questo Allenamento Di equitazione Che Joy Ama e porterà avanti E la madre La guarda Piove purtroppo Ma Joy Non perde tempo Comincia a prendersi Cura di sole Ed è pronta A aprire una cavalcata Guardate questo outfit È stupendo E Brent ovviamente Continua a consolare Elis E dice Ma Elis Sei ancora sola Perché non esci Non ti fai una nuova vita Guarda che Non sei vecchia Anche se fossi vecchia C'è sempre speranza Nell'amore E gli dice Ma sai Io ho bisogno di seguire Joy Che è una ragazza stupenda Però Voglio stare vicina Il più possibile Non voglio che si senta sola Io Lo sai Brent Sono un'orfana So cosa significa Sentirsi sola E voglio Voglio stare con lei Il più possibile Non ho testa In questo momento E Brent La guarda Senza risponderle Con lo sguardo Però di chi Sa comprendere E guardiamo un po' Questo allenamento Per nulla Disastroso Di Joy Che finalmente Diventata adolescente Può tranquillamente Allenarsi Fare tutti i tipi Di allenamento Con Sole Che anziano ragazzi Magaloppa Che è una bellezza Tant'è che voglio cercare Di far avere un figlio A Sole Perché Perché Il suo DNA Deve continuare A resistere Comunque Il fatto sta Che la morte Ci perseguita Abbiamo perso papà Abbiamo perso Bellory E noi sentiamo Questa presenza negativa In casa Ma non l'abbiamo vista E guardate I volti tristi Di Alice E manche di Joy In realtà Quando dormono Poverine Poverine Ma Alice Sempre è bella Stendiamo il bucato E È un nuovo giorno E Joy Ovviamente Ormai Dà una mano Nelle pulizie Non può fare sempre Tutto la mamma Ormai sta crescendo E deve collaborare La madre ha insegnato Che in famiglia Bisogna dividersi i lavori Non deve stare Tutto a carico E sulle spalle Di una sola persona Quindi Prende l'aspirapolvere E passa l'aspirapolvere Anche se qui c'è Un lieve bug Anche in soffitta E proprio nello spolverare Nota qualcosa di strano Ma questa non è Una vera libreria E soprattutto Ma mi sembra Un quadro normale Anche se fosse finto Muove uno dei due vasi E la porta Si apre Entra E scopre Questa stanza segreta Piena di bottiglie Di vino E di quadri Ma che sarà mai Ma che cos'è questa roba Vede la borsa Piena di soldi E cristalli ovunque E lì Si era in casa Ma era andata Vicino alla tomba Di entrambi i cani Sono morti Tutti e due cani Ragazzi Anche oggi Ecco perché la morte Era in casa E quindi abbiamo messo Questa composizione Foloreale Funeraria Vicino a questi vasi E quando Sente troppo silenzio E va in soffitta Vede che Joy Era lì Guardate la sua faccia Alice È Sconvolta E quindi decide Di parlare con Joy Joy Ascolta Posso spiegarti tutto Ma ma cos'è questa roba Perché questa stanza Era segreta E non mi ci hai mai fatto entrare Non sapevo neanche Si stesse Posso spiegarti tutto Joy Ascoltami un attimo Io Praticamente Per Tutti questi anni Non ero una semplice informatica Io sono Un oracolo Del web Io Trafficavo Illecitamente Nei paesi Dove Dove è illegale Il vino Il nettere E a volte Anche dipinti preziosi Mamma ma cosa Questo mi ha consentito In tutto questo tempo Da sola Di costruire questa casa Di crescerti Anche perché Anche quando c'era tuo padre I guadagni erano Veramente bassi Io ho potuto In questo modo Mettere un bel po' di soldi Da parte Così tu Amore mio Non dovrai sopportare Tutti i sacrifici Che ho dovuto sopportare io Ora tua vita Sarà più facile Non ti preoccupare Nessuno sa Di questo nostro Di questo mio segreto Se non I miei Complici Più Più fidati Mamma ma come Ma come Hai operato Nell'illegalità Per tutto questo tempo Non sia un'informatica Quindi io sono un'informatica Mamma Quei soldi Da sola Non mi bastavano Ecco perché ho dovuto Cercare di investire Diversamente Ma smetterò Joy Te lo prometto Era il mio obiettivo Ci sarà un ultimo ordine Sarà l'ultimo E poi Sarà tutto finito Te lo prometto Mamma ma perché Io non capisco Ci sono tantissimi Altri lavori Joy Da sola Ero perduta Non potevo Mantenere me In seguito a te Comprarmi una casa Io non avevo Una mamma Che mi manteneva Io ero orfana E mi sono trovata Veramente da sola Ho dovuto iniziare Da zero Questa casa All'inizio Era un minuscolo Buco Adesso è quello che è E non faccio Niente di male Come noi Viviamo tranquillamente Il nettere Giusto che anche Dalle altre parti Si possa bere Vedrai amore Tra poco Sarà tutto finito E lei Mamma ma come Ma come Hai potuto fare Tutto questo E se ti arrestano Io come faccio Non è possibile Veramente E grida Si arrabbia E però A un certo punto Devono smettere Senti Joy L'ho fatto Veramente per il nostro bene Non avevo Oltre scelta Non lo capisci Era l'unica possibilità Per me O quello O la fame O vivere per strada Cosa pensi Che a me sia piaciuto Che non avrei voluto Fare qualcosa di meglio Non avevo Altre possibilità Perché non capisci Smettono quindi Di litigare ragazzi Perché oggi C'era un evento importante C'era la mostra Dei quadri Di Brent Al museo Di Brindleton Bay Quindi lo raggiungono Sull'isola d'Elba E guardano Una sua mostra Bellissima Li incontra Anche il suo migliore amico Paul Murphy Con cui poi si allontana Un po' E decide Di andarsi a bere Qualcosa Proprio a Oasis Springs Aveva bisogno Di allontanarsi Della famiglia E di sfogarsi Tant'è che in questo periodo Joy assume Il tratto distante Subito dopo Con la vita Con la mamma Perché capisce Che Non l'hai mai come sempre Si sente veramente Sfiduciata ragazzi Si sfoga con Paul Ovviamente non dice Che la madre faceva Un mestiere illegale Però dice Che ha litigato Tanto con sua madre Perché È un periodo Molto complesso Per lì Lui la supporta E la incoraggia Vedrai che Sarai meglio Tua madre è una donna Fantastica Riuscita da sola A A crescerti A fare tantissime cose So quanto ti vuole bene So quanto tu Ne vuoi lì Voi siete anche I migliori amiche Non siete solo Madre figlia Supererete anche Questo momento difficile Vedrai E lei si sente subito meglio Grande Paul Grazie Va a casa quindi Decide di scrivere Tutto sul suo Diario E ha un piccolo sfogo Tra l'altro Un piccolo Una piccola pose Ma guardate Che fighe Le unghie di Joe In questo caso Vedete come si veste In maniera Anticonformista Però comunque Tornando a noi Si sfoga sul diario E si sente già Un po' meglio Mondo il messaggio A Paul In cui lo ringrazia E decide poi Di andare a nanna È un nuovo giorno Ho deciso Di prendermi Un attimo Una pausa Di passare un attimo Da Brent e Brent Che da tempo Che non uscivano insieme E li porto quindi In campagna E si fanno Un bel bagno In questo laghetto Si baciano Ovviamente Si coccolano E hanno Fanno Un bel pranzo Slash Gioveni adulti Sia Brent Che Brant Torniamo Ad Alice E Joy Joy Va a scuola Una nuova mattina E a pranzo Decide un po' Di isolarsi Aveva un gran mal di testa Ed era ancora un po' Stortita Dalle cose Che ha scoperto Sulla sua famiglia E viene raggiunta Da questo bel ragazzo Da questo Mel Mel Dice Che ci fai Qui a mangiare Lei Nulla Volevo solo stare Un po' Tranquilla C'è un po' Di confusione Immensa Tutto bene Hai bisogno di qualcosa No no Grazie Cominciano a parlare Anche un po' A civettare E si trovano Molto simpatici Ma nulla di più Devo dire però Che Mel È un ragazzo Bellissimo E lui Le fa dei complimenti So che sei nuova Ma So già che sei Una delle migliori Della scuola Complimenti Nel frattempo Che Joy A scuola Praticamente Alice Si viene imitata A pranzo Niente Popo di meno Che del mio Bob Pancakes Uno dei suoi migliori amici Bob Con lei è diverso Non è il solito Imbranato Se sei veramente Un uomo di famiglia Però loro Sono solo amici Anche se in realtà Entrambi Hanno un debole L'uno per l'altra Però Bob È sposato È una persona seria Alice Conosce Eliza Non farebbe mai Nulla di male Però non vi nego Che qualche flirt Appunto Scatta Sono andati a cena Come semplici amici Anzi a pranzo Come semplici amici Però Cominciano a flirtare A fare conversazioni Profonde E quando viene Questa canzone La radio Romantica Molto antica Alice dice Io adoro Questa canzone E Bob Non perde tempo La porta La porta A fare questo Bellissimo Lento Bello Poi Alice Decide di tornare a casa Con la sua bici Perché tra poco Arriverà Jojo Che è rimasta qui Al raduno Del club Del scacchi Per fare ricerca Lei ragazzi Praticamente È diventata Ci sono state le elezioni Presidente del consiglio Scolastico Quindi la rappresentante Di tutti i ragazzi Con lei ci sono altri Alleati È veramente Una ragazza Di successo Nonostante non sia Non vada dietro le mode Ragazza È una ragazza Un po' sui generi Svolto particolare Forse Però I suoi modi gentili La sua intelligenza Hanno colpito Anche i suoi coetani Torna a casa E comincia a fare i compiti Continua a fare i compiti Che sono sempre tanti Mentre Alice Prepara la cena Dopodiché È un nuovo mattino E prima di andare a scuola Lì si prende cura Delle sue amate piante E ci chiacchiera Sono le sue amiche Inutili ragazzi Lì ha questo rapporto Particolare Con la natura E va a scuola E si prende cura Della piccola Sera scolastica Perché lì Ci sono altre attività Extracurricolari Di cui lei Si occupa Dopodiché Vanno fuori in giardino Perché il suo amico Melle Ha chiesto di studiare insieme Biologia Perché lui è proprio una frana In biologia Voleva una mano Quindi studiano insieme Chiacchierano Tantissimo E scappa qualche florte Ragazzi Guardate com'è bellissima Adesso Non era anche prima La mia gioia È veramente un bel fisico E lui dice Senti ormai è tardi Si sta facendo buio Perché non andiamo al bubble tea A prenderci qualcosa da bere E continuiamo a studiare lì E così fanno Si prendono un bubble tea Qui c'è Come vedete La borsetta anche Delle merende Di Di Joy Studiano Approfondiscono varie cose E chiacchierano Soprattutto Guardate però Come Joy guarda Melle Ah sì È arrivato il momento Del caravo Che lei ne approfitta Canta qualcosa Così insomma Può magliare Con i suoi doti calore Anche Melle E ci riesce Dopodiché guardano Delle foto Su Instagram E si fanno Grasserizzate insieme Nel frattempo Poiché Comunque Joy Aveva avvisato Alice Che sarebbe stata Fuori in serata Ne approfitta anche Alice Per raggiungere La sua amica Charm Charm Fa parte della famiglia Charm È una strega ovviamente E la raggiunge In questa locanda Per stare un po' insieme E cominciano A bere Bevono tanto E Alice Nota questo barista Molto carino Panciuto Ma molto carino Diviso E cominciano a flirtare Come mai prima Questo è lui Panciuto ragazzi Ma è un bell'uomo Comunque Alice Comincia a chiacchierare Con gli altri Ma scoppia anche una dita Perché cominciavano A Come dire A criticare un po' il barista A chiedergli di muoversi E così via Quindi Ehi Abbiate rispetto Per chi lavora Ok E cercate di comportarvi bene Che non siete i padroni Di questo posto E li rimette al loro posto Dopodiché Il barista la ringrazia E si scambiano i numeri Anche Alice Da bonazza Qual è Fa colpo Su Su questo barista Di cui ragazzi Non ricordo il nome Io sono una frana Con i nomi E flirtano Lui la ringrazia Le chiede di uscire Qualche giorno E lei Brilla com'era Se non proprio ubriaca Lo bacio Lui ci sta ragazzi Tanto è che escono Ormai era l'alba E fanno fichi fichi Ma non basta ragazzi Non basta Lei nel passeggiare Intanto vede questo portare magico Ma non si fa tante domande Ubriaca com'era E va a casa di lui Va a casa di lui E fanno un altro Fichi fichi Pazzesco ragazzi Non torna a casa Se non in mattinata Gioi non si fa tante domande Perché sa che la madre Lavora di notte E quindi Fa colazione da sola Va a scuola Continua ad allenarsi E la raggiunge Non capisce che era lei Quindi Lui Senza saperlo Che lei Gli avesse già chiesto E che era lei La invita comunque Al ballo studentesco Lei Sì Ma certo Che ci sono Super emozionata Perché è una cotta Pazzesca Per Mel Infatti a un certo punto E va bene Sappi però Che io Sono tremendo Ti spotterò Ti Cominceremo A ballare Senza freni Proprio Sappi Sei pronta Sei pronta Cominciano a stottersi E Un Giocarello Sono dei giocarelloni Entrambi Si spingono un po' E poi Scoppia il bacio Scatta il bacio Ragazzi Questi due Super felici Lei Tanto innamorata Comunque Mel È davvero un bel ragazzo Però è ora Di tornare a casa Va alle macchinette Si ordina uno snack E capisce che mancano Due giorni al ballo E lei non ha ancora un vestito Quindi contatta la mamma Mamma Uno Ho perso il pullman Ho fatto un po' tardi oggi E poi Sono stata invitata Al ballo studentesco Ho bisogno di un vestito Andiamo da qualche parte La madre La passa subito a prendere E la porta In un negozio vicino a Windenburg A comprare degli abiti Questo è il negozio Che ho costruito io Ragazzi Di abbigliamento Stella Polare Con tanti outfit Bellissimi Aggiornati Già pronti Per ogni stagione Che sono salvati Nell'otto Quindi se lo scaricate Troverete anche questo E lei decide Di comprarsi un bell'abito Con l'aiuto della madre Per il ballo Ragazzi Molto molto carino Lo vedrete Ne approfitta anche Alice Per fare dei nuovi acquisti Questo è uno degli outfit Da me creati Ditemi se non è carino E qui c'è la commessa Che ci dà tanti suggerimenti E Joy che dice Dice e dice Mamma E questo è il mio abito Ne sono certa Che ne dici Ti piace Ma certo Amore Sei divina E quindi la sera La porta Per il centro estetico Loro ragazzi Non si erano ancora Chiarite Ma decidono di chiarire adesso Passando questa giornata insieme Joy capisce la madre Sa che è una brevissima persona Corretta Sa che la necessità A volte ti porta A dover prendere Delle decisioni estreme Ma non la critica Non ha fatto del male A nessuno D'altronde ragazzi Capisce la madre E non ritiene Che quello che faccia Sia sbagliato E niente Praticamente si fa Una manicure Una pedicure Con degli smalti Adatti all'occasione Del ballo Si fanno fare Dei massaggi Pulizie del viso E chi più ne ha Più ne metta Unghe bellissime Per Joy Si fanno anche La sauna E il giorno Degli esami E Joy Ovviamente Prende il voto Più alto Quella sera stessa Però la sera dopo Anzi Ci sarà Il ballo Quindi lei E' super emozionata Però è anche Molto preparata Per gli esami Quindi Molto sicura di sé Scrive sul diario Prende appunti Si concentra Arriva Il momento Degli esami Saluta Ovviamente I suoi amici Della scuola Si dirige Verso l'aula E fa gli esami Prendendo il massimo De voti Ragazzi Anche la luoda Il pomeriggio Si vede Al parco di Copperdale Vicino alla scuola Sempre che ho Il parco che ho Ricreato io Con Mel Era dal giorno Di quel bacio Che non si vedevano Ragazzi E si ufficializzano Il loro Il loro finanziamento Lui dice Guarda Oggi è l'allenamento Di football Ho fatto l'occhio Nero a questo Per sbaglio Ridono un po' E poi ovviamente Si sentivano Entrambi La loro mancanza Si baciano E poi patinano Un po' insieme Poi vanno su una panchina Si baciano Amoreggiano Scherzano Continuano a baciarsi Tanto 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 Anche sotto la pioggia Come fanno i ragazzi Con gli ormoni pazziti Torna a casa E viene a trovarla Paul Paul non frequenta La stessa scuola Di Joy Anche se sono Migliori amici Tant'è che condividono Il braccialetto Dell'amicizia Come potete vedere Ai bracci destri Di entrambi Lui frequenta La scuola Alberghiera Perché vuole diventare Una chef stellato E ragazzi Ci riuscirà Ecco perché Anche questo Questo look Però guardate Quanto è buono Pure Paul E lei le racconta Sai Paul A te posso dirlo Perché sei Il mio migliore amico Mi sono fidanzata E lui ha Davvero Complimenti Grazie Grazie Sai il tuo è bellissimo È stupendo È atletico E Paul non viene A trovarla per caso Perché in realtà Elis aveva radunato Gli amici Con cui non si vedeva Da un bel po' Tra cui i genitori Di Paul Vi ricordo Che lei è un estetista Una terapista Del benessere Lui è un ecoambientalista E insomma Viene anche Bob E poi ci raggiungeranno Brent e Brandt Facciamo questa pizza Insieme I ragazzi I ragazzi Si mettono sul divano A mangiare la pizza Lontano dagli adulti Per scherzare un po' Anche se Diciamo Un po' Ci è rimasto male E anche gli adulti Si aggiornano Ovviamente Sapete che Elis e Bob Tra di loro Hanno un piccolo Debole Ma non è mai successo Niente Elis decide Di non rivedere Mai più Quel barista Di cui tra l'altro Anche pochi ricordi E insomma Non è da lei comportarsi così Però Diciamo Una volta nella vita Si può anche Sbagliare Si può anche Essere un po' Più deboli Ma tra l'altro L'ha fatto stare bene Quindi buon per lei Anche Paul Viene chiamato Dei suoi genitori Allora Paul Racconta Racconta Ad Elis Come sei bravo a scuola Come ti incensano Di complimenti Professore Lui si A scuola Va tutto bene Come fanno i ragazzi Come è andata A scuola bene Che hai fatto Niente Uguale Come tutti i ragazzi Poi raggiunge di nuovo Joy E Joy Regala a Paul Le margherite Margherite che ha piantato Elis stessa E che sta coltivando Lei Guarda Queste sono le più belle Dame create Ti piacciono E lei ne è molto felice E l'abbraccia Ringraziandola E un nuovo mattino Facciamo colazione Con le uova La Benedict E Elis E Joy Stanno veramente bene Diciamo che ormai I loro rapporti Sono Forti come prima Forse anche di più Perché non ci sono più segreti Ed è la sera del ballo Ragazzi Quindi ne approfittano Entrambe per farsi Queste maschere Ovviamente da animali Per farsi un pediluvio Ovviamente Elis ne approfitta Per fare un po' di pulizie Del giorno del ballo La sera del ballo Studentesco Ragazzi Quindi Elis Pulite la maschera Adocciatesi E tutto il resto Acconci i capelli A Joy E la trucca Guardate che carino Che carino Ora amore Sei perfetta Per il ballo Guardate che trucco Bello È pronta Chiamo ovviamente La sua sorella Rose Che con cui si sente Quasi ogni giorno Lei la chiama tantissimo Quindi chiacchierano un po' Perché sapeva del ballo Ed ecco Che lei E Mel Vanno al ballo insieme Guardate quanto è carino Il vestito Di Joy Con questo capello Riccio Lunghissimo Legato Con questo trucco Molto elegante Ballano insieme Prima Un po' di house Poi Si fanno Un bel lento insieme E arriva il momento Della proclamazione Del re E del burlone Della scuola Ci facciamo Un altro lento E quindi ragazzi C'è il dopo ballo Raggiungono Il parco divertimenti Luna Park Quindi di Copperdale C'è un ragazzo Che si sta esibendo Mel ovviamente Insieme a Joy E decidono Di andare insieme Sulla giostra Dell'amore Si avviano Super emozionati E Paul è lì Con un'altra sua amica Ad aspettarli fuori Non aveva la minima Intenzione Di andarci Soprattutto con lei Non vuole creare Induzioni Nella mente Di nessuno E tuttavia In quella giostra Eh Diciamo che Mel Tenta di allungare Le mani Cioè Si baciano Come Hanno sempre fatto Però vuole anche Qualcosa di più E Joy Si rifiuta Povero Povero Paul Che deve aspettare Là fuori Joy E Mel Poverino E quando escono Infatti Cominciano a discutere Joy e Mel Perché lui dice Mamma Io non ho fatto niente Perché non Perché sei così Fredda Con me Lui E gli dice Non era il luogo E in questo momento Non sono Non sono pronta Ti avevo chiesto Di aspettare Non l'hai fatto Quindi discutono Di brutto Anche davanti Agli amici Che erano però In realtà In aria Da festa E litigano Ragazzi Discutono Ma veramente Di brutto E quindi A un certo punto Joy prende Manda male Letteralmente male Mel E se ne va Dice Tu di me Non hai capito niente Non hai rispettato La mia volontà Quindi me ne vado Non voglio vederti E se ne va Paul assiste a tutto questo Dice Sei tu Che sei strana Stai Stai esagerando Io Volevo fare ciò Che tutti fanno Dopo il ballo Ma tu A te non interessa Evidentemente Quindi litigano Le torna a casa E si siede qua fuori Sotto al porticato La madre sente Ovviamente i suoi passi Quindi anche se era a letto Si mette un maglioncino Ed esce Perché questa faccia triste Joy E mamma Ho discusso con Ben Cos'è Non è andato bene Il ballo No è stato bellissimo Ficché non siamo arrivati A Luna Park Era giustra dell'amore Lui Beh sì Lui Voleva che lo facessimo Ma io non volevo E quindi Edise Era Obbligata a fargli Quello discorsetto lì Nell'imbarazzo più totale Però loro parlano sempre Sempre di tutto E lui dice Guarda Joy Non eri pronta Sono Sono contenta per te Hai fatto la cosa più giusta Non devi mai Sentirti obbligata E Guarda Per come hai agito Sono veramente Fiera di te Continuo così Non hai bisogno di me A quanto pare Se difenderti da sola E quindi Chiacchierano E si tranquillizzano Entrambe Perché appunto Lei sa di aver fatto La cosa giusta E vanno a letto Il mattino dopo Decidono di andare Da A casa Della Sorellastra Era stata un'idea Di Alice Strano Però le due sorelline Ne approfittano Per stare un po' insieme Ed Alice Parla con Jade Rose Vede la sua faccia Molto stanca E preoccupata Jade C'è qualcosa che non va Puoi dirmelo Se Hai problemi economici Lei Come fai a saperlo Eh Li conosco con la faccia Ci sono passata anche io Se bisogno Ci sono Guarda Alice Ti ringrazio Ma Ma no Ce la farò Non ti preoccupare Ma sei sicura Io posso aiutarti Davvero Di risparmi Ma come fai A saperlo Sì Sono Sto messa male Non so come andare avanti Questa casa Mi porta via Un sacco di soldi In bolletta C'è da crescere La mia piccola La scuola Con il mio solo lavoro E non ce la faccio E quindi Alice Si offre Di regalarle Questi soldi Sono ben 10.000 Simoleon Che ovviamente Jade Rose accetta E che non vuole Minimamente indietro Alice Sono per te E Rose Consideralo come un regalo Da parte Di un parente Da parte Della tua famiglia Lei Non ci può credere La ringrazia Si abbracciano E poi Ne ha approfittato Per fare un po' di foto Insieme Le due sorelline La foto insieme Di ovviamente Alice e Joy Da grandi Ormai Mi mancava E fatta una foto insieme Anche a queste due Che insomma Poi appeso in casa Alice ne approfitta Per fare anche un regalo Un giocattolino A Jade Rose Anzi a Rose Che ha apprezzato tantissimo E ragazzi È cominciata l'estate Abbiamo finito l'esame C'è stato il ballo E comincia l'estate Viene qui Invitiamo i nostri amici Alla piscina pubblica Ne approfittiamo Per ordinare anche Di gelati E viene lui Lui che viene Totalmente Trattato freddamente Da Joy Che ve lo dico Non ne vuole più sapere Ordinano da bere E Joy ormai Ha preparato La sua iscrizione All'università E quindi Vuole godersi Questi momenti Con gli amici Perché la sua università È molto lontana Da Brindleton Facciamo un drink Tutti insieme Alla fine degli esami Alla fine della scuola E all'inizio dell'estate La più bella che ci sia Alice ne approfitta Ovviamente Non sta con i ragazzi Ma per starse Un po' in disporte Con Bob Giusto per chiacchierare I flirt non mancano Ma non succede nulla I ragazzi Continuano a festeggiare Infatti Prendono a ballare E ragazzi Joy decide di parlare Con Mel Gli dice Guarda Forse L'altra sera I tuoni Si sono ammazzati Un po' troppo Però Lasciamo il mondo Come sta Rimandiamo amici E Senza rancori E quindi I due Decidono di Appunto Raffreddare il rapporto Di essere suoi amici E Mel Ovviamente Si scusa Con Joy E quindi Poi ci sta Un ballo Tutti insieme Balleranno anche Diciamo Balli western No texani Questi due Continuano a prendersi I cocktail E arrivano i gelati Gelati per tutti D'estate ci sta C'era un caldo Proprio Super super bollente Così ragazzi Prosegue l'estate Tra festeggiamenti Uscite Bagni Piscine Mare Con questi amici La loro ultima estate Tutti insieme Prima che cominciamo La vent'ora All'università Siamo accettati Sì No Lo vedremo Sapete già Che La mia gioia È un portento È un portento Perché infatti È riuscita A diplomarsi In anticipo Ragazzi Purtroppo Io penso Di avere un bug Non posso mai Assistere alla cerimonia Del diploma Però Si è diplomata In anticipo E quindi Lì Comincerà Molto probabilmente Perché inoltre Otro le domande Non sappiamo La risposta L'università Da adolescente È la prima volta Che vi capita Ma di questo Ne parleremo Nella prossima puntata Se questa vi è piaciuta Mi raccomando Per sostenere il canale Il lavoro che faccio Lasciate un like Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate E soprattutto Iscrivetevi Ciao Ciao